E bello a tutti ragazzi, sono il Cilberga e sono qui oggi, tornato in un nuovo episodio in cui vi mostro un filtro che state già vedendo qua in sovraimpressione Prima di iniziare però vi voglio dire due cose, una è che, rega, se volete che domani o dopodomani, perché devo vedere quando riesco a registrarlo Se avete un video su 3 giocatori da utilizzare per lo sniping, cerchiamo di arrivare a 70 likes entro stasera La seconda cosa è che sono appena, non appena, però sono arrivato da, ed ero andato a vedere la partita del Milan, Milan-Arsenal, ripero, ne abbiamo perso 2-0 Fatemi sapere nei commenti se avete riguardato la partita, cosa ne pensate, io vi risponderò, penso, sì, sicuramente vi risponderò e vi dirò cosa ne penso io Iniziamo però subito con il filtro, anche perché devo andare a dormire, perché domani mi devo usare presto per lavorare Il filtro consiste semplicemente di mettere come squadra e campionato, mettiamo Bundesliga e come squadra Bayern-Monaco Come presso mettiamo solitamente qua, mettiamo sempre 15 milioni e qua dobbiamo mettere 2-0, anche perché a 1.900 non si vendono Cioè, nel senso, si vendono entro 3 minuti, ah no, scusate, si sono abbassati, vi l'ho fatto oggi pomeriggio e funzionava così Sì, ora si devono mettere a 1.900, quindi sono 100 di tasse, quindi questo qua ce lo prendiamo Vabbè, comunque vedete che escono a un ottimo prezzo Quindi è andato che si vende a 1.900 entro 3 minuti, possiamo metterci a 1.700, provate a snaparne qualcuno Io ve lo dico già, questo, come al solito non è l'orario adatto, ho fatto il durante il pomeriggio Perché io lo sto facendo adesso che sono le 11, oddio raga, non stavo guardando No raga, mi sono incirato a guardare l'orologio e è uscito Chimic, che magari vale anche pure di più Non lo so, comunque, io lo sto facendo alle 11.30 che non ha tanto senso Però, raga, se voi potete farlo durante il pomeriggio è molto molto meglio Io l'ho fatto oggi pomeriggio e ne ho presi tantissimi di giocatori Ed escono anche a prezzi buonissimi, tipo No raga, come fai non l'ho preso questo, raga Comunque vedete che ne escono un botto ed escono anche a prezzi molto molto vantaggiosi Infatti, se riuscite a prenderne, perché, ad esempio, quelli bronzo escono veramente a dei prezzi che non stanno né in cielo né in terra Tipo 150, 200 Aiuto, perché non me li fa prendere, raga, vabbè che c'è la connessione che non va benissimo in questi giorni Però, mi fa strano che non me li dia Cioè, o c'è qualcun altro che in questo momento qua sta sniperando, però Mi fa strano Anche perché non è un orario solito per sniperare, però Non si sa mai nulla nella vita Dunque, vedete che escono dei prezzi che sono stra buoni Tipo 750 Ci saremmo fatti circa 1000 crediti No, più di 1000 crediti di guadagno Quindi, se voi avete voglia di buttarle via Buttatele via, io non li butto via sicuro Raga, c'è qualche cosa contro di me Perché non è possibile che non riesca a prenderne nessuno Cioè, aiuto E comunque Vabbè, contate che se voi avete una connessione decente Raga C'è un accordo contro di me Perché non è possibile che non riesca a prendere uno Cioè, raga Cioè, ok che c'è la connessione di merda Quello lo so Mea culpa Però, c'è nel senso Mi fa strano Cioè, mi sono usciti tipo 10 Tutti ho azzeccato i tasti per prenderlo Oh, raga 284 vale penso almeno 3500 crediti Ed è uscito a 1000 Quindi, raga Usate sto filtro Fidatevi di me È stra buono Bella, raga Ciao a tutti Ciao a tutti